del teatro lirico di Cagliari. Andiamo subito a scoprire la stagione concertistica 2024-2025. La stagione si apre venerdì 20 settembre e poi sabato 21 settembre, orchestra e coro teatro lirico di Cagliari, direttrice Alvetina Loffe, maestro del coro Giovanni Andreoli. Il concerto vertirà su musiche di Straminski e Strauss, Richard Strauss. Poi venerdì 4 ottobre, sabato 5 ottobre, coro del teatro lirico di Cagliari, direttore Giovanni Andreoli, musica di Aiden Schubert, Mendelssohn Bartoli, Bruckner Brahms. Ancora si prosegue venerdì 22 novembre e sabato 23 novembre, orchestra e coro del teatro lirico di Cagliari, direttrice Ustina Dubischi, maestro del coro Giovanni Andreoli. Musiche di Bruckner, Dall'Albero, teatro lirico di Cagliari, prima esecuzione assoluta e poi Brahms. martedì 26 novembre, tromba Sergei Nakariakov, pianoforte Maria Merovic, musiche di Mozart, Schumann, Mendelssohn Bartoli, Ruef, Anne, Chopin, Cancheli, Jean-Baptiste Arban. e poi si prosegue venerdì 10 gennaio, sabato 11 gennaio 2025, orchestra del teatro lirico di Cagliari, direttore Diego Ceretta. Musiche di Pizzetti e Brahms. Proseguiamo venerdì 17 gennaio, sabato 18 gennaio, orchestra del teatro lirico di Cagliari, direttore Alpesh Chawan, violino Pavel Bergman, musiche di Brahms Elgar. martedì 11 febbraio 2025, quartetto Modigliani, violino Amauri Coetou, violino Loi Crio, viola Laurent Marfeing, violoncello François Kieffer, musiche di Bertrand Ravel Beethoven. Proseguiamo venerdì 21 febbraio, sabato 22 febbraio, orchestra e coro del teatro lirico di Cagliari, direttore Maurizio Benini, maestro del coro Giovanni Andreoli, Lorenzo Perosi, musiche di Lorenzo Perosi. Venerdì 28 marzo, sabato 29 marzo, orchestra e coro del teatro lirico di Cagliari, direttore Alessandro Bonato, maestro del coro Giovanni Andreoli. La Monacella della Fontana, leggenda in un atto, libretto di Giuseppe Adami, musica Giuseppe Moulet, esecuzione in forma di concerto. Martedì 1 aprile, violoncello Mario Brunello, musiche di Bach. Martedì 6 maggio, quartetto Casals, violino Abel Tomas, violino Vera Martinez Mener, viola Jonathan Brown, violoncello Arnau Tomas, musiche di Crisostomo de Arringa Ibril Balzola, Joaquin Turina, Joans Brahms. Venerdì 20 giugno, sabato 21 giugno, orchestra del teatro lirico di Cagliari, direttore Nicolai Zeps Schneider, violino Fabrizio Falasca, musiche di Sibelius e E. Questa è la stagione concertistica. Adesso tutto presente già sul sito, quindi potete trovare tutte le informazioni già sul sito del teatro lirico di Cagliari, www.teatroliricodicagliari.it. Adesso andiamo a scoprire la stagione lirica e balletto 2024-2025. Allora, si inizia dal venerdì 25 ottobre, quindi dal 25 ottobre a domenica 3 novembre 2024, Adriana Lecouvre di Cilea sul libretto di Colauti e abbiamo nel ruolo di Adriana Lecouvre Fiorenza Cedulins che si alterna con Rachele Stanisci, il principe di Bouillon Abramo Rosalen che si alterna con Volodymyr Morzov e la principessa di Bouillon Anastasia Boldireva che si alterna con Chiara Mogini. E poi Maurizio Conte di Sassonia Marco Berti che si alterna con Alexandre Antonenko e l'abbate di Shazouil Saverio Pugliese che si alterna con Mauro Secci. E poi ancora, orchestra e coro del teatro lirico di Cagliari, maestro del coro Giovanni Andreoli, regia Mario Pontigia, maestro concertatore e direttore Fabrizio Maria Carminati. Da martedì 12 novembre a domenica 17 novembre 2024 abbiamo The Tokyo Ballet, la Bayadere, Il Regno delle Ombre, coreografia di Natalia Macarova da Marius Petipa, musiche di Leon Ninkus, poi Petit Mort, coreografia di Giri Kilian, musica di Mozart, Les Sacres du Printemps, coreografia Maurice Bayard, musica di Sraminski, orchestra del teatro lirico di Cagliari, direttore Paul Murphy. Proseguiamo la stagione lirica e di balletto 2024-2025 e da venerdì 13 dicembre a martedì 24 dicembre abbiamo tra cui anche degli appuntamenti il 17 dicembre ragazzi all'opera, 20 dicembre ragazzi all'opera, 24 dicembre famiglie all'opera. Abbiamo Il Pipistrello, musica di Strauss Junior, libretto di Carl Aftner e Richard Genet e abbiamo come personaggi e interpreti principali Gabriel von Eisenstein, Thomas Tatzl che si alterna con Gurgel Mbapp Veian, Rosalinde Lucrezia Drei che si alterna con Ilaria Vanagore. Maestro, concertatore e direttore Nicola Snagele, orchestra e colo del teatro lirico di Cagliari, maestro del coro Giovanni Andreoli, regia Oscar Secchi. Poi proseguiamo da venerdì 7 febbraio a domenica 16 febbraio con interruzioni 11 febbraio ragazzi all'opera, 14 febbraio ragazzi all'opera. Abbiamo la gioconda, musica di Ponchielli, libretto di Tobia Gordio. E i personaggi principali, la gioconda Irina Ciurilova che si alterna con Veronica Zioeva, Laura Adorno, Silvia Beltrami, Alvise Badoero, Andrea Silvestrelli che si alterna con Volodimir Morozov. Maestro, concertatore e direttore Fabio Massangelo, orchestra e coro del teatro lirico di Cagliari, maestro del coro Giovanni Andreoli. Regia, scene e costumi Filippo Tonon. Allestimento dell'Arena di Verona in coproduzione con lo Slovene National Theatre Maribor e Aslico. Proseguiamo. Da venerdì 14 marzo a domenica 23 marzo con in queste date anche 18 e 21 marzo ragazzi all'opera. Il barbiere di Siviglia, musica di Gioacchino Rossini, libretto di Cesare Sterbini. Interpreti principali, il conte d'Alma Viva, Maxi Mironov che si alterna con Chuang Wang. Don Bartolo, Giulio Mastrototaro che si alterna con Vincenzo Taormina. Rosina, Annalisa Stroppa che si alterna con Michela Guerrera. Figaro, Daniele Terenzi che si alterna con Marcello Rosiello. Don Basilio, Peter Martin Cic che si alterna con Marco Spotti. Berta, Chiara Notarnicola. Fiorello Giuseppe Sposito, maestro, concertatore e direttore Salvatore Percacciolo. Orchestra del teatro lirico di Cagliari, maestro del coro Giovanni Andreoli, regia Filippo Crivelli. Si prosegue da giovedì 24 aprile a domenica 4 maggio con il 29 aprile e 2 maggio, ragazzi all'opera, Lavalli. Libretto di Luigi Illicca, musica di Alfredo Catalani. Personaggi e interpreti, Walli, Oksana Dica che si alterna con Rachele Stanisci. Afra, Antonella Colaianni. Walter, Elena Schirru. Maestro, concertatore e direttore Lu Gia. Orchestra e coro del teatro lirico di Cagliari. Maestro del coro Giovanni Andreoli, regia scene e costumi a luci Massimo Gasparon. Nuovo allestimento del teatro lirico di Cagliari. Si prosegue poi, da martedì 13 maggio a domenica 18 maggio, il balletto della Bella Addormentata. Musica di Tchaikovsky. Libretto di Zerwolowski e Marius Petipa, dal racconto omonimo di Charles Sperro. Balletto dell'Opera Nazionale di Riga, dal Latvian National Ballet. Direttore artistico Ivar Sleimanis. Direttore Martins Odolins. Orchestra del teatro lirico di Cagliari. Messi scena Ivar Sleimanis. Scene e costumi in Ara Gauia. Luci Carlisca Upuz. Si prosegue poi, da venerdì 6 giugno a domenica 15 giugno, con il 10 giugno Famiglie all'Opera. La Favorita. Musica di Donizetti. Libretto di Royer, Betts e Scribbi. Personaggi e interpreti. Leonora di Guzman, Nozomi Cato, che si alterna con Emilia Rucavina. Fernando Antonino Siracusa, che si alterna con Matteo Desole. Alfonso XI, Damiano Salerno, che si alterna con Alfonso Musica. Maestro concertatore e direttore Beatrice Venezzi. Orchestra e coro del teatro lirico di Cagliari. Maestro del coro Giovanni Andreoli. Regia Alex Aguilera. Allestimento del teatro Massimo di Palermo. Proseguiamo, da venerdì 11 luglio a domenica 20 luglio. Aida. Musica di Giuseppe Verdi. Libretto Antonio Ghislanzoni. Personaggi e interpreti. Il re. Peter Martincic, che si alterna con Georg Angulazze. Amnelis. Olesia Petrova, che si alterna con Daniela Barcellona. Aida. Marigona Cerchezi, che si alterna con Marta Amari. Radames Antonello Palombi, che si alterna con Carlo Ventre. Ranfi Gheorghe Angulazze, che si alterna con Peter Martincic. Amonastro David Cecconi, che si alterna con Igor Podoplelov. Maestro concertatore e direttore Gianluca Marciano. Orchestra e coro del teatro lirico di Cagliari. Maestro del coro Giovanni Andreoli. Regia Franco Zeffirelli, ripresa da Stefano Trespidi. Scene Franco Zeffirelli. Costumi Anna Anni. Allestimento del teatro Giuseppe Verdi di Bussito. Questa è la stagione di opera e balletto del teatro lirico di Cagliari. Adesso andiamo a vedere qualche altro evento per attività giovani 2024-2025. Io ovviamente ve le cito, poi tutte le informazioni precise le trovate già tutte presenti e specifiche sul sito del teatro lirico di Cagliari. Allora, abbiamo un evento venerdì 9 agosto, sabato 10 agosto ovviamente 2025, centro d'arte e cultura in Lazzaretto di Cagliari. Con orchestra e coro del teatro lirico di Cagliari, direttore Sergio Oliva, maestro del coro Giovanni Andreoli. E verranno eseguite musiche di John Williams, Ennio Morricone e Hans Zimmer. Sono apparentemente attività per le scuole 2024-2025. Questo è quanto dal teatro lirico di Cagliari, insomma. Trovate già tutto specificato benissimo sul sito, c'è tutto, ci sono le informazioni, ci sono anche le informazioni per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti, ci sono tutte le opere, già ci sono anche tutti i cast, direttore, regista, c'è tutto. Anche se volete informarvi sulle regie è già presente tutto. E potete sicuramente contattare i teatri per avere anche maggiori informazioni riguardo l'acquisto di abbonamenti, di biglietti, insomma già è tutto partito. Quindi per la nuova stagione del teatro lirico di Cagliari. Io auguro a tutti i lavoratori del teatro lirico di Cagliari, i musicisti, i cantanti, i registi e anche chi riprende le regie magari di registi del passato e poi anche i direttori d'orchestra, direttrici d'orchestra, di fare un buonissimo lavoro nella nuova stagione 2024-2025 del teatro lirico di Cagliari. Ovviamente spero che questo video possa essere un po' come un Made in Becum, una bussola orientativa per capire un po' quali eventi andare a vedere, quali potrebbero interessarvi. Quindi magari se andate a qualche evento, io lo dico sempre e vi fa piacere, fate delle foto, fa piacere pubblicarle sui social di Opera Classica, potete mandarmeli nella messaggistica privata di Opera Classica. Ovviamente commentate anche sotto questi video che io faccio per sapere se c'è qualche vostra preferenza, qualcosa che vi piace in particolar modo. Se avete qualche dubbio, insomma, mi fa piacere sempre interagire con voi. Quindi io veramente auguro a tutti voi, a chi andrà a Cagliari, una buonissima stagione del teatro lirico di Cagliari 2024-2025 e a noi tutti auguro sempre buona salute, buona musica da Serena con Duce Opera Classica. Ciao!